All'articolo 2, se nessuno chiede di intervenire, lo mette in votazione. È aperta la votazione sull'articolo 2. Sannicandro, che non chiede di parlare, ma chiede di votare. Ecco, Bragantini Paola. Ci siamo? No, Ginoble, veloce. È chiusa la votazione. La Camera approva. Sull'articolo 3 c'è un emendamento 3.50 della Commissione, su cui chiedo i pareri al Governo e al relatore, che era migliore. Prego. No, non vedevo lì. Il parere è favorevole, essendo un emendamento della Commissione. Grazie, Governo. Sottosegretario Rossi. Favorevole. Grazie. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 3.50 della Commissione, con il parere favorevole, ovviamente, di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Ci siamo? Greco. Piepoli. Greco ha votato? Sì, non vedo. Gianmanco. Tancredi. Mi pare che tutti abbiano votato. Ruocco in arrivo. È chiusa la votazione. Grazie. Grazie.